Simpatici, alterati, decisamente nervosi, fuori di testa, difficile rendere gli stati d'animo nei film di Paolo Genovese. Proprio per questo ci pensano grandi intercetti e come tradizione in Italia i regolamenti di conti si fanno a tavola. Perfetti Sconosciuti e Una Famiglia Perfetta di Paolo Genovese. Successo è sicurato. Lunedì 10 maggio dalle 21, Ciuccine 34.